Dunque, io probabilmente ho avuto la stessa sensazione che avevano avuto tutti gli italiani, chiedersi perché siamo arrivati a questo punto, perché è chiaro che il recovery plan aveva dei problemi inizialmente, ma come ha sottolineato anche il direttore Molinari, poi molti cambiamenti sono stati introdotti che andavano nella direzione in cui voleva Renzi, detto quindi che sono stupito che Renzi abbia deciso di rompere. D'altro canto, sono anche stupito quando poi Ponte, sia nel discorso alla Camera che in quello al Senato, ha proprio chiuso la porta, ha una possibile riconciliazione nel modo più chiaro possibile. Non si può certo pensare adesso di far finta che non sia successo niente, ora si svolta, da qui poi è una situazione diversa. Però è anche vero che in politica è sempre come ha detto Molinari... Mai dire mai, noi al suono di mai dire mai andiamo avanti con la puntata, diamo però così per cambiare una brutta notizia.